Musica ...perbale dall'ufficio centrale elettorale presso il Comune di Grumo Levano al capitolo 25 proclamazione degli eletti nella carica di consigliere comunale in conformità dei risultati accertati il Presidente dell'ufficio centrale alle ore 16 del giorno 26 giugno 2013 tenendo presente le disposizioni secondo la quale sono in primo luogo programmati eletti dalla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati con ciascuna lista o con ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio considerato anche il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nonché l'aggredatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista proclama eletti consigliere del Comune di Grumo Levano salvo le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 per la lista numero 8 avendo il contrassegno cittadinanza attiva alla quale spettano seggi numero 2 i signori Giuseppina Chianese e Alessandro Merenda per la lista numero 10 avendo il contrassegno cattolici democratici alla quale spettano seggi numero 1 il signor Pasquale Iovine per la lista numero 11 avendo il contrassegno coscienza civica alla quale spettano seggi numero 2 i signori Tammaro Faccenda e Giovanni Giuseppe Ruggero per la lista numero 12 avendo il contrassegno partito democratico alla quale spettano seggi numero 2 i signori Tammaro Gervasio e Antonio Chiariello per la lista numero 13 avendo il contrassegno progetto comune alla quale spettano seggi numero 2 Carmine da Ponte e Giovanni Pietro De Santis per la lista numero 14 avendo il contrassegno associazioni in movimento alla quale spettano seggi numero 1 Tammaro Maisto per il gruppo di liste comprendendo i seguenti contrassegni Grumo Solidale, Il Campanile, Movimento Popolare Grumese Moderati, Idea Civica e Adorà il signor Angelo Di Lorenzo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nonché per la lista numero 4 avendo il contrassegno Movimento Popolare Grumese alla quale spettano il numero 2 seggi i signori Gaetano Di Bernardo Guidomiere per la lista numero 5 avendo il contrassegno Moderati alla quale spettano il numero 1 seggio il signor Giovanni Landolfo per la lista numero 6 avendo il contrassegno Idea Civica alla quale spetta il numero 1 seggio il signor Angelo Rennella per la lista numero 7 avendo il contrassegno Agorà alla quale spettano il numero 1 seggio il signor Arcangelo Derrico a me mi piace bluze tutte i giorni a Giagantan perché sono state zitta e mo' un momento e mi sfugano sono volgare sogni che nella vita suonerò perché delle complesse non ne vanno a me mi piace il zucchero che scende in tutto il caffè e con la presa rando se maghi è meglio mia ten ragazzi me faccio tutto quello che mi va perché so bluze non voglio gagnare ma forse resto male e la pacienza sul portale la gente che cammina mi sa via puoi sbrairà mi vengo presa a te perché sono nato a casa di sonnire ma non ti posso lasciare ma non ti posso fare